Tempo di attività intensa per il figlio di Arianna con un borgo del libro, questa fiera di lavagna che va bene sulla falsa riga di come erano andate le cose già al Festival della Cultura Mediterranea d'Imperia e poi una nuova pubblicazione da parte del figlio di Arianna che è questa raccolta di autori spezzini e dove trovarli si chiama. Ho voluto raccogliere il meglio della cultura di Spezia che ha voluto aderire a questa iniziativa della casa editrice Il Filo di Arianna proprio per provare quanta cultura sia ancora presente, quante anime e cuori pensanti abitino ancora in questa nostra bella città e quindi per omaggiare come omaggio alla città e anche per invitare le persone ad amare sempre di più la cultura, a prendere in mano sempre di nuovo il libro, lasciare magari altre cose per un libro, trovare anche i loro concittadini che magari conoscono, i loro vicino di casa che nessuno sapeva magari che fosse uno scrittore e in questa raccolta ci sono anche autori spezzini che però vivono fuori per motivi di lavoro e che sono stati molto ben contenti di partecipare a questa iniziativa proprio perché testimonia quanto sono radicati alla loro terra, al loro mare, al loro golfo dei poeti. A Lavagna è stata bene, sì? A Lavagna molto bene, era il primo anno che si svolgeva questa caromessa letteraria, diciamo, dove era presente la piccola media editoria e c'è stato un buon afflusso anche perché comunque c'erano degli ambiti per bambini, c'erano dei giochi interattivi per bambini quindi le persone erano anche attirate da questo spazio per i bimbi.